In occasione del Natale continuano gli eventi promossi dal Comune di Tolentino. Domani, sabato 17 dicembre, nel piazzale adiacente la cartolibreria Viva la Scuola in Viale Buozzi, dalle ore 15 alle 19 arriva il ludobus.org Legno Giocando, dove si potrà giocare con le tante realizzazioni di legno costruite da Manuel Pucci, che stimolano grandi e piccini a giocare come si faceva una volta. Alle ore 17, poi, laboratorio di lettura a cura di Giaconi Editore e trucca bimbi a cura della parrucchieria e centro estetico Arianna e Miley e diletta Tattoo Vision. Al termine della manifestazione, la merenda di una volta offerta a tutti i partecipanti. Alla Galleria Europa, sempre domani dalle ore 17, festa con tutti i bambini che frequentano i asili nido comunali ed il centro per l'infanzia. Bimbi educatrici, operatrici, cuochi e responsabile indosseranno il cappello rosso di Babbo Natale. All'arrivo dei genitori verrà consegnata la pallina fatta dai bambini al nido, che alla fine attaccheranno sull'albero posizionato sotto la galleria. Il 17 e il 18 dicembre torna anche il trenino di Natale, gratuito per le vie della città, con partenza dal Capolinea in Piazza della Libertà. Nel centro storico, dagli ore 17 e 30, Damiano Show, con partenza dall'Asp Porcelli. Al teatro Nicola Vaccai, alle ore 21 e 15, andrà in scena, sempre domani, lo spettacolo teatrale Lo Zingaro, con protagonista l'attore Marco Bocci. Domenica 18 dicembre, in Piazza della Libertà, Tolentino Christmas Running, la Corsa dei Babbi. Apertura e iscrizioni alle ore 9 e 30, partenza alle ore 10 e 30, per un percorso di circa 2,8 chilometri. Musica live con multiradio. La manifestazione è a cura della Proloco 2.0, con Comune di Tolentino, Arena, Freesport, Campermania. Appuntamento da non perdere per gli sportivi e per tutte le famiglie che vogliono godersi un momento spensierato all'aria aperta. Arrivo previsto per le ore 12 e 30 circa e a seguire le premiazioni. Sempre domenica si svolgerà, in Piazza Mauruzzi, il mercato dei produttori agricoli, dalle ore 8 alle ore 20. Al Castello dell'Arancia, invece, dalle ore 10 del mattino, Grand Tour dei Musei, Natale nella Storia, Laboratorio didattico e attività ludica a cura dell'Associazione Tolentino Arte e Cultura. In Centro Storico, domenica alle ore 16, la città si anima e di scena il Natale, spettacolo a cura del liceo coreutico Filelfo. Infine, dalle ore 17 e 30, Christmas Street Band, con partenza dall'Aspe Porcelli. Grazie a tutti.